Il sindaco di lavoro La qualificazione delle imprese per ottenere qualità nelle opere, questo l'obiettivo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili della provincia di Teramo. Se i conti ora sono in regola è perché i cittadini hanno pagato più tasse a fronte di meno servizi. È il parere di Camilo D'Alessandro, capogruppo PD alla Regione, in risposta al governatore Gianni Chiodi sul risanamento della sanità abruzzese. Lo scrittore, Enri De Luca, ospite a Santomero per la presentazione del suo nuovo libro Il torto del soldato. Mister Tossi sorride, Daniello e Del Grosso recuperano in vista della sfida all'Adriatico tra Giulianova e Fondi. A Pesaro il Teramo si gioca il secondo matchball per la promozione in Lega Pro. Saraceno out, Petrella in forte dubbio. Piove sul bagnato in casa Teramo Basket dopo Cerella, preoccupano anche le condizioni di Lulli in vista della gara di lunedì sera a Roma. Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento con la prima edizione dell'informazione di Teleponte. Buon pomeriggio, lo avete ascoltato dai titoli. In merito alla vicenda che ha coinvolto la Tercop, cercheremo di salvare i posti di lavoro. È quanto dichiarato dal primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi. Vediamo. Riguardo alla Tercop, cosa farà l'amministrazione comunale per salvare quei posti di lavoro? Cercheremo di tutelare i posti di lavoro secondo le normative vigenti. È chiaro che riteniamo che la Tercop ha ben operato fino ad ora e nel bando di gara che siamo obbligati a fare cercheremo di fare in modo, secondo quello che prevede la legge, di tutelare tutti i posti di lavoro. Quindi non c'è polemica su questo, anzi faremo anche una commissione, così come ci aveva chiesto la minoranza, per esporre quelli che sono gli elementi che gli organi amministrativi stanno portando avanti. Ovviamente, insomma, quindi nel rispetto della normativa e delle leggi vigenti, si cercherà di fare in modo che anche gli operatori della Tercop, così come quelli della Tiam, possano avere ancora il loro posto di lavoro. Tutto questo nel meno tempo possibile? Ma nei tempi che prevede la legge, insomma, la legge prevede certi tempi, in questi tempi noi faremo tutto quello che c'è da fare, insomma. Però, ecco, ripeto, nessun allarmismo in questa fase, perché non c'è necessità di fare allarmismo. Ci sarà una commissione consigliare nel quale potremmo parlare di questo, in modo che tutto il Consiglio Comunale verrà coinvolto. E giovedì scorso, 12 marzo, nella frazione di Villa Toffo, si è tenuto un nuovo incontro dell'amministrazione comunale con i cittadini, così come previsto nel programma della cosiddetta giunta itinerante. La riunione è stata importante perché ha consentito al Sindaco di ufficializzare ai residenti della frazione la chiusura della locale scuola, le cui attività, a partire dal prossimo anno scolastico, saranno accorpate a quelle della scuola di San Nicolò, zona PEP. L'edificio scolastico però non cesserà di svolgere una funzione di carattere sociale, visto che sarà definitivamente messo a disposizione della locale associazione Canfora, che già ne utilizzava una parte. Si punta alla qualificazione delle imprese per ottenere qualità nelle opere. Questo è l'obiettivo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili della provincia di Teramo. Vediamo il servizio. La nuova ordinanza del Governo riapre il mercato della ricostruzione post-terremoto per le imprese. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili punta ora sulla formazione e quindi sulle imprese qualificate. E' questa dunque la posizione dei costruttori terramani riguardo alla nuova ordinanza? Sì, la nuova ordinanza riapre per noi uno scenario importante. Certo, molto dipenderà poi dal decreto che farà il Commissario per la ricostruzione. Ma noi a questo punto ci aspettiamo che saranno messi dei paletti abbastanza rigidi per quanto riguarda la capacità tecnica, economica e finanziaria delle aziende e soprattutto per quanto riguarda poi la tempistica. Sicuramente saranno messe delle penali in modo da accelerare la ricostruzione e quindi sicuramente non ci saranno casi in cui le imprese non saranno capaci di portare a termine la ricostruzione stessa. Questo naturalmente riguarda tutto il cratere, quindi non solo la provincia dell'Aquila. Ecco perché noi siamo molto interessati a questa vicenda. Voi adesso cosa chiedete nello specifico al Governo locale? Di fare il più presto possibile, quindi di appaltare da un lato. Dall'altro lato, se dovesse verificarsi che non ci sono comunque le risorse, chiediamo di non appaltare perché noi ormai siamo arrivati a un ritardo nei pagamenti che ormai supera un anno e non abbiamo più la capacità economica e finanziaria di sopportare questo. Se i conti della sanità adesso sono in regola è perché i cittadini e le imprese hanno pagato più tasse a fronte, peraltro di meno servizi. Nel parere del capogruppo della PD alla Regione, Camilo D'Alessandro, intervenuto in merito all'annuncio del Governatore Gianni Chiodi sul risanamento dei conti della sanità abruzzese. Ascoltiamolo. Pochi giorni fa il Commissario ad Acta della Sanità e Governatore della Regione Abruzzo Gianni Chiodi in conferenza stampa ha parlato di un avanzo della sanità abruzzese di 60 milioni di euro. Un ottimo risultato. Camilo D'Alessandro, esponente del PD, come commenta l'opposizione? Intanto il pareggio dei conti della sanità le hanno pagate le imprese con le maggiori tasse, i cittadini con le maggiori addizionali IRPEF e poi con i minori servizi che troviamo tutti i giorni negli ospedali e nel territorio. Chiarito questo, si insiste in un'idea di sanità che sia più o meno ragionieristica, contabile, che nulla a che fare con la vita delle persone. La vita delle persone è un'altra cosa. Sono per esempio quelli che vanno al pronto soccorso e devono aspettare un'intera giornata per farsi vedere. Ora ci si pone un altro tema, quale programmazione vogliamo fare. Noi crediamo che vada tutto messo il possibile sulla medicina del territorio. Chiodi ha parlato di una possibile riduzione delle tasse e anche di nuove assunzioni all'interno degli ospedali. Bisogna passare dal dire al fare. Se il Presidente vuole abbassare le tasse già a giugno è possibile. Con le addizionali già è possibile procedere nell'abbattimento delle tasse. Noi apriveremo una battaglia su questo perché credo che la situazione economica e sociale della nostra Regione non consenta più di avere tutta la tassazione al massimo. La Regione Abruzza è la Regione più tassata d'Italia e ciò poi si ripercuote inevitabilmente nella vita economica delle imprese e quindi dei lavoratori e quindi dell'occupazione. Per quanto riguarda le assunzioni, io credo che ci sono delle realtà, per esempio gli ospedali, assolutamente sotto organico e si proceda in tal senso. Feder Consumatori attacca il sistema trasporti in Abruzzo. L'Abruzzo è una delle poche regioni d'Italia dove gli abbonamenti ai treni intercity non sono autorizzati a viaggiare sui treni regionali. Pagano di più gli abbonati ma sono considerati senza biglietto sui treni dove il biglietto e l'abbonamento costa di meno. Questo anche perché non sono in condizione di poter acquistare la carta tutto treno che consente in altre regioni di pagare un piccolo sovrapprezzo ed utilizzare così tutti i treni in circolazione nella relazione per la quale è stato acquistato l'abbonamento. Da noi dovrebbero acquistare due distinti abbonamenti, uno per il viaggio di andata con l'Intercity per esempio e l'altro per poter tornare con il regionale, sempre facendo un esempio. Non bastasse questa scellerata decisione di Trenitalia, dal primo maggio prossimo i pendolari abruzzesi che utilizzano il treno dovranno subire un'altra menomazione. L'abbonamento per i treni FAS, ovvero quelli della Sangritana, non sarà più valido sui vettori Trenitalia e viceversa. Scatta il fermo del vongolare. Attività sospese fino al prossimo 15 maggio. La decisione è stata presa dal COGEVO, il Consorzio di gestione per favorire il ripopolamento del pregiato mollusco. Il servizio. Stop per un mese alla pesca delle vongole. Il COGEVO, il Consorzio di gestione delle vongolare di Giulianova, ha deciso di sospendere le attività in mare a partire da lunedì prossimo e sino al 15 maggio per consentire il riposo dei fondali dopo una pesca senza sosta andata avanti dalla scorsa estate. In tutto questo tempo le quasi 90 vongolare della flottiglia del compartimento giuliese hanno pescato la pregiata Venus Galina nel tratto a sud del porto di Giulianova, tra Roseto e Cologna. Alla ripresa delle attività a metà maggio le vongolare torneranno a pescare nel tratto a nord del porto, interessando il fondale da Martinsicuro sino al porto di Giulianova appunto. La scelta di dividere le zone di pesca in comparti, di sfruttarne alcuni lasciando chiusi gli altri, facilita la riproduzione del mollusco bivalve, come dimostrato dallo stesso istituto zooprofilattico che da anni collabora con il Cogevo per la tutela delle vongole. Tale scelta, ovvero quella di dividere i fondali in zone di pesca, ha spiegato Walter Squeo, vicepresidente del consorzio e responsabile regionale della Federpesca, consente di tutelare il prodotto portandolo a maturazione. Il periodo di fermo biologico ne consente la crescita sino al raggiungimento delle misure adatte anche per il mercato estero. Secondo Squeo, il fatto di associare la pesca alla ricerca ha permesso il ripopolamento delle vongole nei fondali al largo della costa teramana. Tant'è vero che nonostante il gran numero di imbarcazioni adibite alla pesca delle vongole, il prodotto non scarseggia. Anche in altri settori della pesca, conclude il vicepresidente del Cogevo, bisognerebbe abbinare la ricerca per creare delle zone aperte alle attività e altre chiuse per consentire il ripopolamento delle specie ittiche. Parliamo adesso dell'iniziativa che sta portando avanti il Comune di Roseto in vista dell'allargamento e il potenziamento del servizio di raccolta porta a porta sul territorio comunale, in modo particolare nella città capoluogo. Dopo la prima serie di incontri con i cittadini, infatti, che si sono svolti nel mese di marzo, l'attività di sensibilizzazione ricomincia dalle scuole, da quella dell'infanzia, passando per la primaria, fino alle medie. Gli incontri, che sono partiti già nella giornata di ieri, si terranno in tutti i plessi del primo e secondo circolo e riguarderà anche la scuola media d'annunzio fedele Romani. Va detto, sostiene l'assessore all'ambiente Fornaciari, Fabrizio Fornaciari, dicevamo va detto che il coinvolgimento dei bambini è fondamentale nelle modalità interattive per insegnare loro la raccolta differenziata, partendo appunto dalla base. La prossima settimana, intanto, riprenderà la campagna di sensibilizzazione sul territorio con un nuovo ciclo di incontri che coinvolgeranno cittadini e commercianti in diversi luoghi della città. Henry De Luca, ospite a Santomero per l'incontro Parole per la pace, lo scrittore e poeta napoletano, autore di più di 50 libri, ultimo in uscita Il torto del soldato per la Feltrinelli, a Santomero dunque per parlare di pace, lo abbiamo intervistato. Henry De Luca è in Abruzzo a Santomero per parlare di pace, per portare la sua esperienza, è uno degli scrittori più venduti, ma questo magari non rende merito alla qualità, è sicuramente uno degli scrittori di maggiore qualità del nostro paese. La pace è possibile ritrovarla nei suoi scritti, nei suoi romanzi? Io vengo dal 1900, che è stato il secolo più micidiale dal punto di vista della distruzione di vite umane e di stragi militari, dunque questo rumore di fondo ci sta nelle mie storie, ma le mie storie sono una resistenza delle persone, delle singole persone a questo rumore di fondo. Anche l'ultimo suo libro che sta per uscire, Il torto del soldato, in qualche modo parla di questo. Sì, ci ritorno sopra, ed è la storia di una ragazza, una donna, che all'età in cui è pronta per avere un figlio, invece si accorge che ha un padre, che li avevano sempre presentato come suo nonno, e che questo padre è un criminale di guerra. E lei accetta di sobbarcarselo, questo padre, anche se non ha niente in comune con lui. Accetta di prendersi questo impegno di figlia nei confronti del tempo precedente, qualunque esso sia stato. Lei ultimamente è stato ospite della Sette, nello spazio di Lillie Gruber, e ha parlato un po' di questo momento che sta vivendo il mondo, segnatamente l'Italia, questa crisi. E con un occhio particolare, lo ha detto più volte, agli ultimi, a quelli che probabilmente stanno soffrendo di più per questa crisi. Come uscirne? Come uscirne? Ecco, intanto rimettendo a posto questo paese dal punto di vista del suo comportamento etico. Questo è un paese che è diventato molto corrotto, è molto infestato da privilegi di casta, di famiglia, eccetera, rimettendo insieme, prima di tutto, uno spirito di appartenenza comune a una regola. Questo è il principio per risentirsi cittadini. Santino Spinelli presenta il suo ultimo libro dal titolo Rom, Genti libere, dedicato per l'appunto al mondo Rom. Ogni persona per bene deve sapere ciò che in questo momento si consuma contro i nostri concittadini europei, Rom e Sinti, anche attraverso la falsa retorica dell'emergenza, con il suo correddo di stanziamenti comunitari che spesso riempiono le tasche di chi sfrutta e strumentalizza la logica dell'emergenza stessa. Questo libro dovrebbe essere letto e meditato da tutti, dovrebbe stare in ogni biblioteca e libreria, dovrebbe essere studiato nelle scuole di ogni ordine e grado. Santino Spinelli, Rom italiano, professore musicista, offre alle nostre coscienze un dono prezioso. Facciamone buon uso. E questa è la prefazione di Moni Ovadia all'ultimo libro di Santino Spinelli dal titolo Rom, Genti libere. Perché questo libro è molto importante? Lei ne ha scritti già altri, ma questo è più importante. Perché? Perché si trova in tutte le librerie, questo sicuramente è un vantaggio, soprattutto perché è stata edita da una grande casa editrice come la Dalai, Baldini Castoldi Dalai, editore. Questo fa fare alla conoscenza del mondo Rom certamente un salto di qualità. Abbiamo impiegato la bellezza di sei secoli, al di là degli stereotipi, dei cliché prestamenti. Lei tra l'altro ricorda in questo libro che ci sono stati Rom, Premi Nobel, Presidenti? Come no. Il Premio Nobel per la medicina nel 1920 è un Rom che è diventato Presidente della Repubblica in Brasile tra il 1956 e il 1961. Tanti personaggi importanti che appartengono al mondo Rom, calciatori famosi come Zlatan Ibrahimovic, Riccardo Quaresma, Ger Müller, Felix Magath, Ballack e quant'altri personaggi del mondo dello spettacolo come Rita Hayworth, Hugh Brinner, Charlie Chaplin, More Orfei, Joaquin Cortez. L'inclusione, o meglio l'integrazione in termini di interazione è come l'amore, si fa in due. Per poter approcciarsi occorre conoscere, non avere paura, superare i cliché. Ecco, io questo ho cercato di fare nel libro. E' il momento di andare a vedere quali sono stati alcuni dei titoli più importanti presenti quest'oggi sui nostri quotidiani locali. Rassegna stampa locale sabato 14 aprile 2012. La città, Teramo, tra nota commerciante finanziere e storia d'amore di soldi e di denunce. Dimezzata la pena al predicatore evangelico che ha violentato una minorenne della setta. Miracolo all'università, un docente era in tre posti, contemporaneamente. Albadriatica notava all'attacco il movimento che contesta i lavori del treno ad alta velocità dopo il PD colpisce anche il PDL. Giulianova, i furbetti del porto aggirano ancora i divieti sulle vongole. Prosegue il via vai di sacchetti extra sui moli. Col divieto a macchine e furgoni le vongole ora passano a spalla. Roseto, altre scintille in consiglio sulla mozione liceo Saffo, il consigliere del Pidio non riesce ad intervenire e la minoranza abbandona l'aula. Il tempo, trasporti, il treno lascia a piedi pendolari. Convoglio guasto, linea bloccata, nemmeno un bus sostitutivo, un'altra giornata di ordinari disagi sulla tratta Pescara-Teramo. Università, processo a cinque docenti, sfilano i testimoni, parla uno degli studenti, quando sostenuto l'esame la professoressa non c'era. Il centro, la sentenza d'appello, violenza, cinque anni al pastore evangelico, abusi su una ragazzina, pagherà 100.000 euro, ma in primo grado aveva avuto il doppio. Teramo, una scienziata alla guida dell'Istituto Zooprofilattico, Caramelli, nuovo direttore e l'esperta della mucca pazza. Il treno si rompe, soccorsi 60 pendolari, ennesimo guasto al Pescara-Teramo, i passeggeri caricati su auto e pullman. L'inchiesta sui crack Teramani, Curti, martedì il faccia a faccia con il PM. Fissato il giorno dell'interrogatorio club, l'imprenditore vuole parlare delle bancarotte. I partigiani ricordati, tra le lacrime, letto l'ultimo messaggio di una delle vittime, muoio da innocente. Giulia Nova, stadio chiuso, il sindaco non ci sta. Mastro Mauro, solo qui il prefetto fa rispettare la legge, campionato falsato. Il messaggero, Teramo, liberalizzazioni, si tenta l'accordo, la proposta, negozi tutti aperti in centro, una sola domenica al mese. Giulia Nova, Mastro Mauro, campionato falsato, il sindaco insorge dopo il no della prefettura alla riapertura del Fadini. Roseto, la polemica sul liceo, scontro sul saffo, la minoranza s'appella al prefetto. Adesso invece andiamo a scoprire che tempo farà oggi con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge diffuse su tutto il territorio provinciale. Tra sera e notte fenomeni nuovamente in intensificazione a partire dai litorali. temperature stazionarie o in lieve aumento, massime comprese tra 14 e 17 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 15 e 18 gradi sulle coste, venti deboli o moderati settentrionali, mare poco mosso. Eccoci qui, iniziamo subito con il campionato di Serie D perché allo stadio di Piano Daccio è in corso il derby tra San Nicolò e Sant'Egigliese e il San Nicolò in vantaggio con il gol di Scipioni. Ci racconta tutto Alfredo Giovannozzi. Alfredo. Sì, grazie Lino. Ventisettesimo minuto nel corso del primo tempo. Il San Nicolò, come avete detto voi da studio, è in vantaggio per 1-0 il gol realizzato al sedicesimo minuto da Scipioni sul primo calcio d'angolo battuto dal San Nicolò e fino adesso l'ultimo della formazione di Calabrese. È arrivato questo primo gol ma nei primi 16 minuti molto meglio la Sant'Egigliese rispetto al San Nicolò e la formazione vibratiana ha anche avuto due palle gol anche abbastanza nitide per passare in vantaggio ma non sono stati bravi gli avanti Giallo Rossi a sfruttarla. Il San Nicolò che l'ha fatto vedere l'attenzione perché c'è il raddoppio del San Nicolò, il raddoppio del San Nicolò con Costantino che ha sfruttato una respinta corsa da parte del fortiere vibratiano Palmieri ha insaccato sulla ribattuta abbastanza statica la retroguardia giallo-rossa. C'è stata una conclusione dal limite dell'area da parte di Galli, la ribattuta di Palmieri e poi sulla ribattuta corta all'interno dell'area piccola è arrivato Costantino che ha battuto in gol ancora per la seconda volta a Palmieri. Siamo aria 20, un testo venuto dunque 2-0 per il San Nicolò e la strada per la Sant'Egigliese. Si fa in salita, dicevamo, molto meglio la Sant'Egigliese nel primo quarto d'ora di gara con due occasioni da gol anche abbastanza nitide. Poi San Nicolò ha cominciato a rispondere un paio di volte con Giorgio Galli e poi è arrivato il gol del vantaggio realizzato da Scipioni. Adesso invece qualche istante fa il raddoppio con Costantino che ha ribadito a rete una corta respinta da parte di Palmieri quando siamo al ventottesimo minuto dunque del primo tempo 2-0 per il San Nicolò sulla Sant'Egigliese e questa sì che questa volta la strada per la formazione giallorossa si fa in salita. Dunque ripetiamo e passiamo l'attenzione perché ancora un'azione a tappo del San Nicolò all'interno dell'area di rigore della Sant'Egigliese riescono a sbrogliare però i difensori giallorossi. Attenzione, seguiamo questa ripartenza vibratiana con la vista che porta il pallone in avanti lo serve ad amore, poi ancora il pallone è servito alla vista, siamo all'altezza della mediana o se fermiamo questa azione da parte del Sant'Egigliese, vediamo se la formazione di Fontana riesce a fare qualcosa di pericoloso e d'amore spostato a sinistra che controlla il pallone rientra sul destro, l'appoggio all'indietro verso Coccia, il pallone poi termina ancora sui piedi di la vista il capitano della Sant'Egliese, prova a giocare questo pallone in avanti, non ci arriva Iommarini si perde così questa manovra d'attacco da parte della Sant'Egigliese e allora ribadiamo il parziale 2-0 per il San Nicolò, le reti realizzate da Scipioni e da Costantino linea al studio. Grazie ad Alfredo Giovannozzi, dunque abbiamo seguito le prime fasi di questa gara il tre giornale va avanti, c'è anche domani un impegno molto importante per il Giulianova Serena E sì perché domani il Giulianova scende in campo allo stadio adriatico di Pescara per la sfida contro il Fondi, importante in chiave salvezza ascoltiamo allora e vediamo questo servizio Per conquistare la salvezza senza passare dai play-out il Giulianova ha un solo obiettivo battere domani il Fondi all'Adriatico di Pescara già a Pescara perché il nuovo prefetto di Teramo, Walter Crudo non ha concesso l'autorizzazione a riaprire i cancelli del Fadini nonostante la richiesta firmata in calce dal sindaco Francesco Mastromauro ne è nata una polemica che ha spinto il primo cittadino giuliese a scrivere al ministro dell'interno per ricordare che molti stadi in Italia non sono in regola eppure continuano ad ospitare gare ufficiali il prefetto di Teramo è una persona rispettabilissima e ha solo fatto il proprio dovere ha detto il primo cittadino giuliese sono i prefetti di altre province che consentono di far disputare le gare in strutture non a norma a non rispettare le disposizioni della Lega Pro a Giulianova il Fadini viene considerato fuori legge e per Mastromauro questo significa falsare il campionato con i giallorossi impegnati nella lotta salvezza e con due gare decisive in casa da giocare però in campo neutro la prima appunto con il Fondi domani e tra 15 giorni con l'Ebolitana ieri penalizzata di due punti e che sembra ormai condannata alla retrocessione insomma tra difficoltà societarie e situazioni imbarazzanti che riguardano proprio le vicende legate allo stadio Fadini se Giulianova dovesse centrare la salvezza senza disputare i play-out sarebbe un miracolo la tifoseria giallorossa è amareggiata e non sono pochi quelli che non andranno a pescare a sostenere la truppa di Marco Tosi per il popolo giuliese comunque è stata messa a disposizione l'intera tribuna Maiella e la società di Via Migliori ha deciso per prezzi stracciati per agevolare i tifosi per quanto riguarda la sfida di domani Tosi recupera il capitano Ciccio Daniello che finalmente ha smaltito i postumi dell'infortunio e Federico Delgrosso assente nell'ultimo turno di campionato perché ha piedato dal giudice sportivo non ci sarà invece il difensore centrale Terrenzio per via di un infortunio rimediato durante la settimana degli allenamenti al suo posto potrebbe giocare Testoni che ha dato segnali positivi in questi giorni in attacco il tecnico giallorosso pronto a confermare Morga che potrebbe avere al suo fianco uno tra Pirelli e Picone arbitrerà l'incontro Casalucci di Lecce torniamo a parlare di Serie D perché domani il Teramo ha il secondo match ball per accedere in seconda divisione per conquistare la promozione in Lega Pro vediamo questo servizio una settimana fa le cose non sono andate come era lecito attendersi non solo perché non è arrivata la certezza matematica per la seconda divisione ma anche perché è arrivata la prima sconfitta casalinga stagionale contro l'atletico Trivento il termo va a Pesaro però con paradossalmente più chance di chiudere la corsa verso il professionismo con tre giornate di anticipo e questo frutto ovviamente del grande vantaggio accumulato in classifica finora 8 punti sulla Civitanovese 9 su San Benedettese e Ancona il che equivale a dire che domani al termo basterà vincere e sperare che le inseguitrici non vadano oltre il pareggio per festeggiare mister Cappellacci dovrà provare a farlo sicuramente senza Saraceno l'esterno di centrocampo si è infatti lussato una spalla in allenamento cosa che lo terrà lontano dal campo per una decina di giorni a preoccupare però sono anche le condizioni di Mirko Petrella la pulce biancorossa ha accusato un fastidio muscolare giovedì si pensava fosse un leggero affaticamento si tratta invece di distrazione muscolare che terrà Petrella in dubbio fino a poco prima dall'inizio della gara in un solo colpo quindi Cappellacci potrebbe fare a meno di ben due esterni la soluzione potrebbe essere schierare Ciampi in difesa e De Cani al posto degli infortunati l'assenza darebbe un dispiacere anche a Petrella l'unico biancorosso che ha giocato finora tutte le gare sin cui disputate dal Teramo Cappellacci di Suoi si troveranno davanti a una squadra dal rendimento altalenante in stagione ed in parabola discendente nelle ultime giornate alla Vispesero guardano le squadre che vogliono uscire dalla zona play-out ovvero Angolana e Sant'Egidiese oltre alla Tessa che d'insegua non solo punto di distanza Mister Bonvino proverà a fermare domani la rincorsa al professionismo del Teramo nel più classico dei Morstù a Vitamea Sul basket Teramo in sofferenza per la sfida di lunedì sera a Roma oltre a Bruno Cerella non al meglio per un problema al piede anche Gianluca Luli ha accusato un problema alla schiena che ne mette in dubbio la presenza problematiche che rendono quindi ancora più difficile la situazione del roster di coach Ramagli già con poche rotazioni a disposizione Chiudiamo con la palla a mano la palla a mano Teramana oggi infatti torna in campo la leader cop sarà impegnata a Salerno dalle 18.30 per l'ultima giornata della pool Scudetto il campionato femminile ma la squadra di Serafino Labbrecciosa si può già concentrare in vista dei play-off perché ha conquistato matematicamente il primo posto dirigeranno la gara Fato e Guarini mentre partono oggi play-off Scudetto in Serie A d'Elite alle 19 la formazione della Tecnoelettronica sarà impegnata in gara 1 a Bolzano Zendali e Riello sono gli arbitri designati per dirigere questo incontro bene tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi vi ricordo l'informazione torna alle 17.30 e alle 19.15 e poi naturalmente alle 22.30 questa sera potrete seguire dalle 21 in poi la gara del in corso in questo momento tra San Nicolò e Sant'Egidiese e tutto vi ricordo anche che potete sempre seguirci in diretta e in differita sulla nostra web tv www.teleponte.it buon pomeriggio e arrivederci grazie e buon fine settimana